Andrà in scena domani, domenica 16 dicembre, presso il Teatro Bertoni di Battipaglia, lo spettacolo Gelsomino nel paese dei bugiardi di Gianni Rodari. L'adattamento a cura di Giovanni Paraggio sarà portato sul palco dall'Associazione Teatrale Scena Aperta. Il testo di Rodari è risalente al 1959 ed è ambientato in un paese dove per ordine del sovrano tutto funziona al contrario ed è proibito dire la verità. A rovesciare gli equilibri arriva Gelsomino dalla voce potentissima che con l'aiuto di simpatici amici sconfigge la prepotenza e fa trionfare la sincerità.